Cominciamo con le notizie dal Vaticano. Verso un noi sempre più grande, questo è il tema del messaggio del Papa per la centosettesima giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 26 settembre. Per Bergoglio il futuro è a colori, arricchito cioè dalla diversità e dalle relazioni interculturali. I dettagli nel servizio. I nazionalismi chiusi e aggressivi e l'individualismo radicale che sgretolano o dividono il noi tanto nel mondo quanto all'interno della Chiesa e il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare gli altri, gli stranieri, i migranti, gli emarginati che abitano le periferie esistenziali. È il punto centrale del messaggio del Papa per la centosettesima giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 26 settembre. Tema di questa lettera è Verso un noi sempre più grande perché il Santo Padre vuole indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo mondo. Come aveva già scritto nell'enciclica Fratelli Tutti, Bergoglio ribadisce che passata la crisi sanitaria la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica. In realtà, precisa, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi grande come l'intera umanità. Per questo Francesco coglie l'occasione per lanciare un appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande e lo fa rivolgendosi ai fedeli cattolici che sono chiamati a impegnarsi, ciascuno a partire dalla comunità in cui vive, affinché la Chiesa diventi sempre più inclusiva. Per il Santo Padre, oggi, proprio la Chiesa deve uscire per le strade delle periferie esistenziali per curare chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza pregiudizi o paure, senza proselitismo, ma pronta ad allargare la sua tenda per accogliere tutti. Infine, rivolgendosi a tutti gli uomini e le donne del mondo, afferma che il futuro è a colori, arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Per questo, conclude, dobbiamo imparare oggi a vivere insieme in armonia e pace.